L'ONU segretario FIOM CGL di Torino presenta i risultati di un ampio confronto sulle retribuzioni reali di alcune medie e grandi aziende metallomeccaniche torinesi e di Lazzi, responsabile della Maserati di Gugliasco, spiega invece i risultati di un questionario realizzato nello stabilimento del Torinese. La FIOM CGL di Torino presenta i risultati di un ampio confronto sulle retribuzioni reali di alcune medie e grandi aziende metallomeccaniche torinesi. C'è una discussione in corso tra i metallomeccanici perché è stato da poco firmato il contratto nazionale, in questa città molti lavoratori hanno un altro contratto, quello della FIAT e quindi ci sono delle differenze che naturalmente non riguardano solo il salario ma riguardano anche il salario. Noi abbiamo preso alcune aziende, soprattutto del settore automotive e anche alcune altre grandi aziende torinesi come Alenia, come Avio e abbiamo fatto dei confronti. Viene fuori che la retribuzione media annua di un lavoratore FIAT è più bassa di quella di questi altri lavoratori a parità di livello, a parità di lavoro, che hanno ovviamente il contratto nazionale e poi hanno anche i premi aziendali che pure sono stati riconosciuti a una parte dei dipendenti della FIAT. Quindi qual è il ragionamento? Il ragionamento è che c'è un problema salariale che riguarda i lavoratori FIAT al di là dei premi che l'azienda ha annunciato nelle settimane scorse. Ovviamente noi pensiamo che questo sia un tema che va affrontato da tutti, dall'azienda ma anche dai sindacati. Noi non abbiamo firmato il contratto FIAT che però scade il prossimo anno. Io penso che tutti dovremmo su questo fare una riflessione perché alla lunga queste differenze non fanno bene a nessuno e quindi occorre trovare una soluzione. Cosa ne pensa delle dichiarazioni di Marchionne sull'arrivo di un secondo modello di SUV a Torino? Io credo che davvero le sue siano state più delle dichiarazioni che un annuncio perché dire che tra un anno e mezzo, due, ci sarà un nuovo modello senza dire che modello sarà se sarà a Mirafiori, se sarà alla Maserati di Grugliasco. Significa dire che insomma qualcosa in ballo c'è ma tempi, modi e via discorrendo sono ad oggi tutt'altro che definiti. Quindi io l'ho visto come il segno di un'incertezza, tra l'altro di un amministratore delegato che per come stanno andando le cose a quel punto, cioè tra un anno e mezzo e due, potrebbe ancora avere il ruolo che ha oggi ma potrebbe anche non averlo più. Quindi io credo che quanto noi abbiamo detto anche nei giorni scorsi e che su questo tema occorre che l'azienda sia più chiara, più esplicita, sia anche più precisa, eviterebbe tante voci, tante polemiche a cui siamo un po' costretti. I contenuti del questionario sull'inquadramento sul salario realizzato dalla Fiamma CGL alla Maserati di Grugliasco. Emerge intanto un dato, i lavoratori non sono soddisfatti del loro salario e del loro inquadramento retributivo. Emerge che molti di loro sono stati assunti vent'anni fa, venticinque anni fa al terzo livello operaio e ancora oggi sono fermi ancora al livello più basso. Emerge appunto una richiesta precisa, una richiesta di essere valorizzati sulla loro professionalità, una richiesta di essere riconosciuti per l'impegno che mettono all'interno dell'azienda, una richiesta di poter vedere i loro salari aumentati, che tra l'altro nel panorama dei metallmeccanici sono tra i più bassi di tutti. Bisogna in qualche modo aprire una discussione con l'azienda. Il prossimo anno scade il CCSL e il tema del salario penso debba essere centrale.